Cercasi schippetti! Do so finiti leocorni! Oh, e daglielo! Ciao bellissimi, come state? Siamo tornati su Brostars e finalmente ci siamo! È uscito il nuovo pass! Io sto preregistrando questo video, quindi non ce l'ho ancora, ma quando uscirà questo episodio sarà uscito il nuovo pass! Mi raccomando, pigliatevi le monete e utilizzate il codice GRAX, assicuratevi di averlo messo, perché ogni 7 giorni scade, avete anche il link in descrizione per utilizzarlo e metterlo in automatico, fare la magia. Il codice WORCA quando ricaricate le gemme, quando fate il refill delle gemme, l'offerta quella con il 10% dei gemme, oppure le ricariche classiche, ma anche le offerte, magari ci saranno delle offerte costo euro, utilizzate il codice GRAX. Taggatemi su Instagram, Instagram e seguitemi, perché sono ritornate le storie taggate. C'è la sezione prima era scomparsa, adesso ci stanno, quindi posso rispondervi su Instagram. In questo video non shoppero il pass, lo shopremo magari stasera, e quindi se volete il test con la cavia zittai del nuovo brawler lasciate almeno 169 like, ovvero il costo del pass. Iscrivetevi per non perdervi la feed, dalle 20 e 30 siamo live, non mancate, ci manca un soffio di iscritti per arrivare a 1,40. Attivate la campanella, essendoci il cambio pass, dobbiamo riscuotere tutto quello che vi ho promesso. 60 casse enormi, più le casse mega, le 3 casse mega all'interno dello shop. Ma prima voglio andare nel box dei brawler e fare un brawler gold così a surprise. Magari riusciamo a trovare subito le star power. Voglio fare forse il brawler più OP, reso più OP, post aggiornamento. È già inquadrato. Un brawler strabannato nel brawl tricolore. Sto parlando del Luciadores! Ray Mysterio lo facciamo al volo a 1.000, no a 1.000, lo facciamo con 1.250 monete al grado gold. Possiamo ora ottenere le 2 star P. In realtà ce ne mancano tante. Chissà se riusciremo ad uguagliare il record di 10 skip in 60 casse enormi. Secondo me è impossibile. Si parte, stagione precedente, carrellata di 60 casse. Andiamo con la prima, subito skip. Lo schifo, 118. Fatevi coccolare da questo commentary di Grax. Schippetto cinese, raddoppio gettoni che, calmi, adesso ci fanno comodo. Se ce ne troppa parecchi sono contento perché possiamo partire a bomba con il pass di Buzz. Sarà un commentary molto chill. Io sto qui, apro le cassette. Voi guardatevi tutta quanta la Premiere. Anzi, se siete in Premiere lasciate un like di presenza, come dico sempre. Strisciate il badge come al lavoro. Non dovete essere di passaggio, ma dei veri e propri supporters. Quindi il like è fondamentale. 53 casse rimanenti. Andiamo. Lo schifo. 50 casse. Questa è la cinquantunesima. Niente skip. Mi sa che non è assolutamente il box opening dei 60 casse enormi fatto qualche mese fa, un paio di mesi fa, perché quello fu incredibile. Già stavamo tipo a tre skip, se non ricordo male. 103. Quella fu una botta di fortuna fuori di testa. Casse enorme gain. 234. 234. 45. Casse enorme. 3, 2, 1. Lo schifo. 145. Non mi ricordo se nel pass 5 ho immagazzinati due pacchetti. Alla decima soglia e alla settantesima. Lo controlleremo perché lì bisognerà prendere i pacchetti per andare avanti nella collezione delle spille. E se non erro, durante questo fine settimana ritornerà il super pacchetto leggendario di cui parlavo ieri che trovate magari il video nelle schede. Già hanno fatto i 20, mi ha dato uno skip giallo e basta. Ma che è? Boostiamo la velocità, vai. 37. No, questa era la trentottesima. Trentasettesima adesso. Uno. Ma ci ho fatto pure il primo. Ma non devo farlo. Sta portando male. 140. Cercasi schippetti. Do so finiti le ocorni. Oh, e daieno. Eccolo il primo. Bono questo. Se esce subito il primo sarebbe proprio la ciliegina sulla torta. Eccolo. Byron. Non male, ragazzi. Byron non avevo nella prima, nella seconda star P. Finalmente posso utilizzare Byron in Lega delle Stars. 33 casse rimanenti. E un solo skip. Schippetto luminoso giallo per due. Altra cassetta. Abbiamo fatto metà casse. Un solo skip. Male. 168. Stiamo formando ora all'infinito. Un giorno acquisterò anche le skin gold. 153. 28 rimanenti. Provo a fare una carrellata fast, eh? Vediamo se porta bene. No, no. Non porta bene, ragazzi. Perché se l'aprite velocemente non carica. Terzo schippetto giallo. Più lentamente. L'aprimi è fondamentale per bustare il contenuto. Altro aprimi. Eccolo, sì. E ancora non ho visto neanche una cassetta laggosa. E laggami, dai. Laggala. Quattro raddoppi oggettoni. Ma quanti ne ho? Fatemi vedere un attimo. C'ho 2700 raddoppi oggettoni. 19. Next. Oh! Ha portato bene. Secondo schippetto. A sto punto non me dà Byron. Dagli. Dammi qualcosa che non ho. Ticchino. L'abilità stellare è meglio quella del danno, ragazzi. Vabbè. Niente di che. Mi sa che abbiamo chiuso però Tic. Se non ricordo male. Sarebbe fantastico. Tre skip. Sapete che il 3 è il numero perfetto. Attenzione. 15 casse. Cassetta enorme. Numero 15. 13. Stavolta molto peggio rispetto al pass numero 3. Ovviamente non è sempre domenica. Ultime 9 casse. Calmi perché poi alziamo l'asticella con 3 megacasse punti stellosi. Meno 7. Terzo skip. Molto good. Abbiamo leggermente recuperato però 10 a 3. Non c'è sta paragone. Sì! Buono! Pure quella della velocità! Spettaculari! S'ho fatto benissimo a maxarlo. Ma guarda che botta di fortuna. Siumme! Bene così. Non ci credevo più. Tre skipetti. E abbiamo ancora le megacasse. Magari esce anche il quarto. Recuperiamo leggermente. Ultime casse enormi. Ma chi l'avrebbe mai detto? Livellato e maxato. Fantastico. Cassa enorme Big recupero Quattro skip La speranza è l'ultima a morire Ma vi immaginate se ci fa chiudere il primo? Bell Pure questa è buona Pure Bell Non c'avevo neanche una star P Con un video posso utilizzare Bell Che è OP Byron che è molto buono Soprattutto in combo con i tank Meglio ancora E il primo max Questo è l'inizio perfetto della stagione prossima di Power League Quattro skip Più le eventuali Casse mega enormi Però aspettate Perché se io torno indietro posso vedere il pass numero 5 E mi sa che abbiamo i pacchetti Preparatevi al video dei pacchetti Con questi qua Arriveremo addirittura a 10 soli pacchetti rimanenti Più quello del fine settimana 9 pacchetti rimanenti 8-9 settimane E vedremo quello che succederà Una volta completata tutta quanta la collezione delle modi concomuni Altro tabù da sfatare Andiamo nel negozio Vi chiedo un altro like L'iscrizione alla campanella Il codice Crax Ripeto Prima dell'acquisto De quello che vi pare Sui giochi Supercell Sugli stori di tutti quanti i giochi Supercell Clash of Clans Anche su Bumbi C'è i dei La gente shoppa pure lì col codice Crax E li ringrazio Prima megacassa 1.500 Facciamo 5 skip E mi accontento Tutti contenti Felici Ma quanti raddoppi aggettoni Sto becca 3.180 Con 6-66 monete Mi dissocio Doppia megacassa Il finale Perfetto Male 5.87 Ultima megacassa Stellare Daie Col boost finale Sì ragazzi Sì Poteva andare peggio Mi aspettavo veramente Un box opening Sotto tono In realtà 5 skip Sono contento Che skip ci dà Potrebbe essere un'altra Super Star P Sicuramente Star P Perché i gadget li ho finiti Andiamo Ragazzi 5 star power 4 top Una Un po' così Quella di Dick Posso utilizzare il Colt Dalla distanza Lasciate like Iscrivetevi Campanella Codice Grax L'iscrizione è fondamentale ROAD Tu 1.40 E poi Push Dinamico Fino a fine anno Per L'1.50 E il milione e mezzo Ce la faremo? Certo Se uscissero Nuovi giochi Sarebbe molto più easy Grazie per il supporto Ci becchiamo questa sera Alle 20.30 Ciao bene Ciao ciao